L'aeroporto d'Abruzzo tranquillizza tutti. La notizia diffusa nei giorni scorsi sulla chiusura del presidio della croce rossa italiana all'interno della struttura si rivela inesatta. Se da un lato era vera la notizia che giungeva a termine un accordo tra le parti, dall'altra la saga, dopo aver vagliato la possibilità di ottenere aiuti dalla regione Abruzzo e dall'ASL pescarese senza successo, è riuscita a mantenere in atto il rapporto a garanzia di sicurezza. La prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo interpellato l'ASL, la direzione Claudio Damario e l'assessorato della regione, visto che la saga è della regione, le ASL sono regionali e la regione stessa potremmo in qualche maniera trovare delle forme di cooperazione, però non ho trovato né da parte dell'uno né da parte dell'altro collaborazione. Noi nel frattempo ci siamo mossi autonomamente e abbiamo risolto il problema, abbiamo esteso la convenzione, ancorché onerosa, ma un po' meno onerosa rispetto a quello che pagava prima il Ministero. Abbiamo prorogato di qualche mese l'assistenza, quindi noi siamo coperti, siamo coperti dalle 6 di mattina fino a mezzanotte, poi da mezzanotte alle 6 di mattina su chiamata non ci sono problemi, ma il nostro aeroporto non è operativo e quindi praticamente abbiamo risolto questo problema, quindi non c'è in questo momento un'emergenza croce rossa. Tra le buone notizie di inizio anno anche il giro d'affari registrato da saga nel mese di dicembre. 40.000 voli ottenuti grazie anche alle nuove destinazioni inserite tra le tratte a disposizione degli abruzzesi. Si chiude con il segno più il 2014. L'aeroporto d'Abruzzo chiude con segno più, il mese di dicembre abbiamo superato i 40.000 passeggeri con un più 12% rispetto a dicembre dell'anno scorso e il record storico dell'aeroporto per il mese di dicembre. Nel 2015 abbiamo già in contratti per nuove rotte, tipo quella di Bucarest che come sappiamo tutti partirà da luglio del 2015 per tre anni con due rotazioni a settimana. Quindi noi abbiamo in qualche maniera preservato l'aeroporto con tutti i suoi servizi e tutte le sue comodità per gli abruzzesi e lo abbiamo tenuto in pista rispetto ad altri aeroporti che invece sono decresciuti.